Ritorna il premio nazionale Cilento Poesia, appuntamento lunedì 12 agosto alle ore 21 nel chiostro del Palazzo della Cultura a Vallo della Lucania. Premio Cilento Poesia, per un libro edito di poesia in lingua italiana a cura di Menotti Lerro e Giussi Rinaldi. Come sempre una serata ricca di contributi artistici alla sua quarta edizione. Vi aspettiamo! Grazie!